Job Edition 5.0, il lavoro cerca te, è l'appuntamento dedicato a chi cerca occupazione a Molfetta fino al 19 marzo. La manifestazione è giunta alla quinta edizione allo scopo di far incontrare domande e offerte. È possibile lasciare il proprio curriculum negli stand e presentare la propria candidatura. L'ingresso è gratuito presso il centro commerciale Mongolfiera dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e 30. Anche quest'anno c'è l'info point di orientamento per imparare a scrivere un curriculum con esperti di orientamento. La manifestazione si concluderà con l'intervento di Robert Re, noto coach motivazionale. Nelle passate edizioni sono stati raccolti circa 10.000 curricula, 500 i colloqui di lavoro sostenuti.